musica 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 come è stato vinto spero come sempre la grandissima finalmente 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 sono tornato qua con un nuovo video sul canale e almeno che non vivete sotto un sasso vi siete accorti che hanno fatto l'aggiornamento i pompa sono stati migliorati hanno inserito il nuovo fucile a pompa e soprattutto e soprattutto i regali finalmente non ho più scuse e so cosa regalare a tutta la famiglia mamma tieni il tuo regalo di natale una nuova skin leggendaria ma sicuramente non gliene frega niente anzi mi sgriderebbe per aver speso dei soldi in una roba digitale quindi no meglio non farlo e comunque ragazzi ora vi lascio a questo gameplay purtroppo le persone sono morte veramente in fretta però ho trovato un paio di caramellitos con cui mi sono divertito e alla fine soprattutto ho lasciato tutto il loot per uccidere l'ultimo usando solamente il nuovo fucile a pompa ah e quasi dimenticavo questa sera ragazzi sarò in live nel canale di matiz alle 20.30 e domani se questo video supera i 6.000 pollice in su farò una live sul mio canale in cui potrete vincere delle skin regalate direttamente da me perciò ora mettetevi super super comodi prendete la vostra coca cola pop corn e come sempre ora si tantissimo tempo che non lo facevo con il microfono let's go musica 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 ah c'è un nuovo pump qua subito così lo prendiamo why not why not baby why not why not Why not why not perché perché l'arma l'arma seria questo cos'è viola ok tutto viola va bene va bene così ora scildini e sono contentissimo Sì Ok Perfetto Ora scildini Ora gioco scildini Va bene tutto Voglio scildini Non c'è niente Qua non c'è niente Ma i pauli Non c'è neanche uno qui Sei serio Servono scildini Ma non c'è niente Mi sto preoccupando Mi sto preoccupando C'è pochissima gente C'è pochissima gente Lì sotto non c'è niente C'è pochissima gente Almeno l'ho trovato subito il pump Ok Là c'è un altro pump Credo Non ho ancora scildini Non ho ancora scildini Pump blu Mi spiace Ma si è stato sostituito per questo Vediamo un po' Se mi uccideva Se mi uccideva C'è allucinante Quest'arma è allucinante A volte entrano precisi A volte non entra neanche un colpo Allora c'è un nuovo pump Ti prego scildini Oh finalmente qualcosa di giusto C'è un lato scoperto Ma speriamo non venga nessuno da lì 3, 2, 1 No Ma madre mia C'è un cecchino Alla sopra Uh Ho evitato per miracolo Non ho lì Sì ma che lagate sta tirando sto coso Dove Sei Andato Oh mio dio Quanta gente c'è là No ma è allucinante Quanta gente c'è là Andarla a partecipare al party Alla fiesta Qua abbiamo un barret ovo Nel nulla cosmico Bene Andiamo A parte Oh Thank you Qualcun altro c'è con giro Devo andare di là Assolutamente A prenderci quella kill Alla 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 Or kung Mi stava per sorprendere alle spalle Mamma mia Mi è venuto un micro infarto Un micro infarto Ok Andiamo I drop Lei è mio Ma ne mancano già solo 16 Come è possibile Ok Non mi ha lasciato niente di Eclatante Ok ragazzi prendiamo questo Quasi tutto il lottoro Ok 16 Siamo in 16 15 Non so questa partita faremo 2 kills Putta hell Perché la gente muore così in fretta Ce ne erano tipo 3 o 4 in quella zona Wow 14 Ok andiamo qua Siamo abbastanza alti E dominiamo la cima Mi sembrava uno col piccone Siamo in 13 Non ho idea di dove sia la cinti Oh ne ho visto uno Meno male Meno male Si è tornato la o sbaglio? Oh Un po' più alto Era preciso No way No way Non è entrato il nosco Perché tutti i caramellitos Verso la fine? Non sei male Vabbè dai Teniamola qui E niente Almeno uno serio c'era Vabbè 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 Cioè alla fine ho fatto tutte le kills Now In questo istante Ok ne ho visto uno là sopra E l'altro è qua Vabbè Bene Oh Jesus Che spaventa Là ce n'è uno Tu mi hai fatto male Intanto L'ho vista What? Oh Ma Shotta sto cosa Che troviamo qui? Ok Ho visto gli ultimi Perfetto 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 Li ho visti No No vi prego Non uccidetevi Tra di voi Oh Meno male Bene Facciamo così It's the moment Oh my Oh Damn Damn 12 kills Non sono come al solito Le 15 16 Eccetera Che riusciamo a fare Però ci siamo divertiti Anche il no scoop che ho provato E le piccole cose Spero che vi siate divertiti Bene ragazzi Ci vediamo la prossima volta Sempre qua sul canale Fate come vi spiegate Bene ragazzi Ciao Ciao Ciao